Presso l'ex Enal Cotel di Via Leopoldori, il presidente della regione, Nicola Zingaretti, ha inaugurato la nuova università di Ostia. Lo studentato sarà intitolato a Giulio Reggeni, il ricercatore sequestrato ed ucciso in Egitto nel gennaio 2016. Una scelta nata da una consultazione tra i ragazzi delle scuole del litorale. Presenti alla cerimonia, delegazioni di tutti gli istituti superiori del decimo municipio. Qui non esiste soltanto mafia e criminalità, ha dichiarato il governatore, che conclude. Faccio un appello ai mass media a non parlare di Ostia solo quando succede una tragedia. Spero che questo evento abbia lo stesso risalto. All'interno della struttura sono disponibili aule studio, 50 posti letto e sono state allestite tre cucine. Il progetto del nuovo corso di laurea della Roma 3 in Ingegneria delle Tecnologie per il Mare e del Polo Universitario è il primo in Italia nel suo genere e partirà con l'anno accademico 2018-2019. Complessivamente è previsto un investimento da 8 milioni di euro. L'intitolazione della residenza universitaria Giulio Reggeni è una bella pagina per la città, ha dichiarato la consigliera regionale Marta Bonafoni. È stata una giornata importante, ha aggiunto il candidato della lista civica per Zingaretti presidente, Gino De Paulis. Lo studentato vuol dire attenzione per il territorio. Ciò che è stato più significativo e doveroso è aver intitolato la struttura a Giulio Reggeni.